...segnare che vuoi cambiare tra queste cose, perché quando ci riguarda, noi credo che con l'atteggiamento che fuori avvenuto, dove, ricordate, lo dico, senza mostra di poter essere finito, perché eravamo, non eravamo la sua, c'erano questi bambini. Noi abbiamo incontrato in una situazione dove divinirsi prostrato e poco. Se di punto ci hai detto che non ce la facciamo qui, che a questo punto, pur di evitare le critiche che vengono da tutte le parti, quindi dal comune, dai dipendenti, dai cittadini, dai quelli attenzionati e dappertiti, tu a questo punto avrai deciso finalmente, dopo quattro anni, di voler cambiare, di voler dare un'aspettata, un'aspettata, e quindi di voler avere il Consiglio Comunale, le forze che si chiamano a te principi che tu sostanzialmente potri vedi. E' un'aspettata che si chiamano a te principi che tu sostanzialmente potri vedi. E' un'aspettata che su questa, su questa strada, su questo impegno, noi che avremmo seguito. Tu avrai citato non solo la parte del PD, di un'aspettata del suo impegno, ma l'aspettata di una maggioranza dei comissieri presenti nel Consiglio Comunale. Opposizione scomplica. Perché se avessero, come tutti gli arabi, di volerla, di una prete espettuale, di una vera figura, che rendesse meglio a mezzo e non meglio a nostra prete, erano delle persone che ci sono scusate che ci sono protagonisti da tanti su queste cose, a rischiare di un'opera cosa oggi. Se hai fatto una valorosa petronarcia. Ti sei rimanciato tutto, hai dimostrato non di essere una persona che fu un uomo e di stipendi, ma a risultato devo dire che te hai stato, te hai stato una persona che ha deposto la sua attenzione per te. Ora, perché tu vuoi riusci a dire, io voglio raggiare, io voglio fare così, e poi all'introfitto ti pretendi ad un punto ufficiale dicendo, a la nazionale e la città, le opzioni del sistema europeo, che ci sono interessati a fare parte, io mi aspetto che ci si traspite di cosa avete visto. Purtroppo, pure una corruzione di niente, noi sul decontrole ci abbiamo sempre, avevo troppo, ci abbiamo sempre rinunciato, avevo detto che ci abbiamo sostenuto su un progetto, a vedere che ci avete visto, che stai contando, le nostre città, 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 le nostre città e le nostre città. Posso dire così? Senza oltre la città, come il tempo, il tempo che aveva avanti uomo, il quindici darà ragione. Bello. Adesso una questione storica. Adesso una questione storica per poter andare finalmente, per poter avere uno scatto di dirmi, che dimostrare di non essere subaltezzo a nessuno, che il fatto è l'ultima cosa, l'ultimo risotto di cui lo città dimostra che non è così, nell'ultima giunta è venuto il tuo azionista di riferimento, è entrato a casa detta nel tuo stato, che detto all'Aggiunta, di approvare con un provvedimento unico nei confronti evidentemente di una persona che, malgrado di un carico avuto, non si è lasciato comprare, che non ha voluto applicare al suo diritto di libertà e di dotazione, e tu mi avete dovuto dimendere, perché lo stato è tuo, lo hai inviato tu, hai subito, adesso confinare anche questa situazione, che non perdisci la situazione del movimento, che non perdisci la situazione, ma ti pare a vedere, ti puoi dire, adicitare il primo stabile di un accettato di una situazione di Davila? Adicitare, guardate le due a questa metafesca sp moon, ho già aver visto. Grazie. He detto...